Ciao cari amici, noi abbiamo visto in questi giorni una sceneggiata che hanno fatto i zerbini del regime anglosassone in Ucraina, hanno fatto questa G7, è stato veramente molto deprimente a vedere come anche i rappresentanti dell'Italia invece di rispettare gli interessi degli italiani, rispettare gli interessi geostrategici del nostro paese, invece continuano a piegarsi a 90 di fronte agli oligarchi anglosassoni, ai guerra fondai, alle corporazioni legate alla guerra, alla produzione delle armi, alle speculazioni con finanziamenti, tutti questi rappresentanti del sistema corrotto occidentale hanno purtroppo in mano tutti i nostri politici, destra, sinistra, su e giù, ormai non esiste nessuna distensione, tutti sono sgherri, servi di questo sistema oligarchico che sta demolendo l'Occidente come noi lo conoscevamo prima, ormai non ci sarà più l'Occidente di una volta, questo è sicuro, non ci sarà più un'Europa che potrà essere almeno in parte indipendente, questo è chiaro, la guerra in Ucraina contro la Russia ha servito agli Stati Uniti d'America soprattutto per rendere l'Europa ancora più suddita di quanto ne era già prima degli Stati Uniti d'America e ovviamente in questa situazione noi siamo di fronte a una palese dimostrazione di comportamento obbediente, comportamento servile dei nostri rappresentanti. Italia ha fermato con Ucraina un trattato, un accordo di collaborazione per dieci anni, ovviamente molto azzardato perché se io fosse in italiani mi domanderei se Ucraina esisterà ancora per dieci anni, io sono abbastanza scettico e comunque fermare gli accordi per dieci anni con un paese che non ha neanche struttura geografica perché è molto pericoloso dal punto di vista geopolitico fare certi accordi con un paese che si trova nella situazione dell'Ucraina, però noi sappiamo benissimo che questi accordi hanno il senso per quel sistema anglosassone, quel sistema degli oligarchi che cerca di portare con tutto il suo potere, di portare l'Ucraina verso la Nato e cerca di in qualche maniera legare l'Ucraina all'Occidente e l'Occidente all'Ucraina, quindi far capire agli occidentali che il loro destino è strettamente legato al destino dell'Ucraina, quindi se l'Ucraina ha provocato la guerra con la Russia e adesso sta combattendo con la Russia, questa non è una guerra di Ucraina e di Russia, questa è una guerra di tutta l'Europa occidentale. Questa è la cosa che adesso i nostri rappresentanti, come rappresentanti italiani, francesi, tedeschi e così via, sono tutti uguali, sono tutti zerbini delle anglosassone, non c'è neanche uno che rappresenta gli interessi del proprio paese. Ecco, tutti loro vogliono convincere i cittadini, l'Occidente, che questa guerra è la guerra di tutti voi. Quindi questo accordo non ha un vero e proprio senso strategico, economico, questo è un accordo di propaganda di guerra. Ciò che loro fanno con questo accordo è dimostrare alle proprie popolazioni che non c'è un'alternativa. Quando io all'inizio dicevo che in realtà l'alternativa ci sarebbe, basta non dare le armi agli ucraini, basta non sostenere il nazismo, basta non sopportare vari movimenti xenofobi, nazisti e terroristici, basta non organizzare le rivoluzioni colorate, basta lasciare i paesi al loro percorso geopolitico, indipendente. Se l'Ucraina è indipendente lasciatela stare, cosa volete? Siete confinati con l'Ucraina? No. Voi con l'Ucraina avete convissuto per molti anni? No. Voi avete più importanti relazioni economiche con l'Ucraina? No. Voi americani, Stati Uniti d'America, state dall'altra parte del mondo. Che cosa volete voi dall'Ucraina? Perché vi intrommettete nelle relazioni tra l'Ucraina e la Russia che sono tutt'uno, un'unica area? Hanno la stessa storia, sono stesso popolo? Lo fanno perché questo è un metodo di azione geopolitica basata sul colonialismo e fondazione di guerre che hanno le anglosassoni. E ovviamente adesso anche voi, cittadini occidentali, noi, anche io sono cittadino dell'Occidente, noi saremmo costretti di sostenere questa guerra, queste decisioni anglosassoni, sostenere un'Ucraina che a noi non conviene in nessun modo, né di avere in Europa, né di spendere i nostri soldi per quella guerra. Tutto questo noi dobbiamo fare per un semplice motivo, perché noi non siamo rappresentati dai politici o dal governo che rappresenta i nostri interessi. I nostri governi sono i fantocci, sono fantocci manipolati da oligarchi anglosassoni, da varie fonti di ricchezza, da varie organizzazioni, da varie fondazioni e così via. Dei cittadini, della vostra opinione, a loro non frega niente, anzi, loro fanno di tutto per manipolarla, come ad esempio questi accordi che hanno adesso stipulato. Macron ha fatto una dichiarazione, una dichiarazione veramente, a mio avviso, vergognosa, nella quale lui ha detto che la Russia vuole invadere dieci paesi. Su quale base lui ha sviluppato questa opinione? Perché di opinioni si tratta, non c'è nessun tipo di informazione, nessun fatto reale che ci può dimostrare che Russia effettivamente vuole invadere qualche paese. La Russia storicamente non ha invaso altri paesi, storicamente la Russia non ha fatto nessun tipo di azione militare se non negli interessi della propria sicurezza. I russi non sono invasori per l'eccellenza come sono gli inglesi, come sono gli occidentali. Non vanno a cercare negli altri paesi la ricchezza, non vogliono dominare gli altri popoli, non vogliono impostare la propria superiorità razziale o religiosa e così via. I russi è un altro tipo di civiltà che l'occidente non ha ancora capito. Per questo continua a blatterare sul fatto che i russi vogliono invadere qualcuno. I russi non invadano nessuno. Se loro fanno un'azione militare è negli interessi della propria sicurezza. Se loro hanno deciso di entrare nel 2022 in Ucraina con le forze armate, è perché per quasi nove anni andava avanti una guerra dove venivano sterminati i cittadini anche russi, i russofoni dell'Ucraina, che avevano tanti doppie cittadinanza, metà Donbass erano cittadini russi, perché volevano difendere i loro interessi nella Crimea, perché Crimea storicamente è russa, e perché da quella situazione dipendeva la loro sicurezza, la sicurezza del loro paese. A nessuno sarebbe piaciuto, nelle Stati Uniti d'America, se i russi avessero sponsorizzato, ad esempio, una guerra in Messico, sul territorio messicano, tra due regioni messicane, minacciando gravemente l'integrità della frontiera statunitense. Io non penso che gli Stati Uniti d'America avrebbero tollerato un comportamento del genere. Secondo me americani sarebbero stati in grado di lanciare addirittura le armi nucleari, avrebbero bruciato metà Messico con donne, bambini, con animali, con tutti, tanto questa gente etica e morale non ce l'ha, loro sono amorali, loro sono consumatori impulsivi, sono persone che vivono in una società che ha gravi problemi dal punto di vista psichiatrico, collettivo, e ovviamente questa società non avrebbe tollerato assolutamente un comportamento del genere. Allora mi domando perché i russi devono tollerarlo, perché tutti dicono come devono comportarsi i russi a casa loro, sulle loro confine, con il loro paese, mentre li stanno provocando, mentre stanno portando la guerra nel loro casa, ma allo stesso tempo non avrebbero tollerato neanche un 10% di simile azione sulla propria frontiera nel proprio paese. Questa ovviamente è una questione che fa capire quali sono i doppi standard, l'ipocrisia, di tutto un sistema oligarchico occidentale. Comunque Macron ha fatto questa dichiarazione totalmente vergognosa, idiota, che io ho seguito, ho guardato. E' chiaro che Macron si trova in difficoltà. Nel suo paese il suo potere è a rischio. Ci sono gli agricoltori, ci sono le proteste, lui non è popolare nel proprio paese. Ovviamente lui vorrebbe rimanere al potere. Ovviamente il suo potere si regge sulla forza, questo è chiaro, noi abbiamo visto. Spesso noi parliamo qua in Occidente di quanto sia brutale il potere di Putin, ma Putin non si spaccia per democratico. Putin chiaramente dice chi è e si è presente per quello chi è. Lui è un autocrata. E tutti lo sanno che in autocrazia ci sono delle regole, se tu segui queste regole, vivi serenamente. Se tu non segui queste regole, avrai dei problemi. Comunque, quando a me mi dicono che il regime di Putin è brutale, che bisogna sostenere una guerra per combattere contro i regimi di Putin, io da una parte posso dire sì, va bene, sono d'accordo aiutare a un popolo di liberarsi contro un dittatore, però da un'altra parte dico scusate ragazzi, dove ci mettiamo la violenza della nostra polizia? Dove ci mettiamo la rivolta dei nostri lavoratori, dei nostri agricoltori, dei nostri studenti che vengono massacrati, caricati dalla polizia, messi in carcere? Dove vogliamo mettere i nostri giornalisti uccisi, i nostri giornalisti messi in carcere, i nostri giornalisti che sono costretti a vivere in uno stato di paura? Dove vogliamo mettere Assange? Dove vogliamo mettere la totale assenza della libertà di stampa che noi abbiamo? Noi adesso, con questo accordo di dieci anni di cooperazione tra Ucraina e Italia, abbiamo avuto anche una bella notizia delle liste di pro-putiniani che è il regime di Kiev, regime nazista, che ha massacrato già esseri umani, che ha già ucciso le persone, cioè un giornalista statunitense, Gonzalo Lira, massacrato in carcere e non sono le storielle condivise di chissà chi, come nel caso di Navalny, un colpo segreto della KGB, nessuno ha visto cadavere, nessuno riesce a condividere niente di oggettivo su ciò che afferma, solo balle, no? È arrivato Putin di persona con un colpo segreto di karate e ha ammazzato a quel nazista lì che era in carcere, scontava 19 anni e così via. Qua invece Gonzalo Lira, torturato per dei mesi, personalmente lui faceva, aveva fatto video mentre lui era rilasciato e poi di nuovo arrestato in questo breve periodo tra due incarcerazioni e lui è riuscito a raccontare come è stato torturato. Ci sono i video, perché nessuno li ha guardato? Perché nessuno ha approfondito questa situazione? Continuano a sostenere un brutale regime di Kif, regime nazista. E questo regime nazista adesso fornisce le liste di pro-Putiniani all'Italia, dove sicuramente in mezzo ci sono anch'io, perché io ero già nella loro lista, nella loro lista Miratvoritz del 2015, tra l'altro, nello stesso 2015 in questa lista era inserito mio caro amico Oles Buzena, antropologo storico ucraino che è stato ammazzato sotto casa sua, le hanno sparato in testa, le hanno sparato i nazisti, tra l'altro in mezzo c'erano anche nazisti italiani perché la macchina con quale questi due assassini sono stati portati al posto del delitto aveva le targhe italiane, ovviamente tutto finito insabbiato, nessuno sa niente, le indagini sono state insabbiate e questi nazisti che hanno sparato a Oles sono diventati eroi nazionali. Sono finiti anche un anno, erano tutti e due su un banner pubblicitario a Kiev dove loro da questo banner facevano pubblicità di arruolamento in uno dei battaglioni nazisti dell'esercito ucraino. Immaginate il livello, questa gente manderà le liste e la cosa vergognosa è che mentre questo pagliaccio tossicomene del presidente ucraino diceva queste cose in presenza di nostro premier Giorgia Meloni lei non ha avuto neanche un minimo di reazione negativa. Cioè una persona che rappresenta un paese che almeno fa finta di essere indipendente avrebbe dovuto fermarlo e dire caro Zelensky fermati qua perché io sono premier italiana io in Italia gestisco il mio paese saprò io come e in che modo gestire i putiniani in Italia non mi serve prendere le lezioni pubbliche soprattutto davanti alle telecamere dei giornalisti da uno come te pezzente che va in giro a raccogliere i soldi limousinare i soldi per l'Europa sniffi la cocaina sei un mezzo rimbambito hai massacrato tutto il tuo popolo noi ti diamo le armi le munizioni tra poco ti manderemo pure i militari nostri per combattere per il paese che tu hai fregato e tu pure mi stai dicendo come io devo gestire le cose nel mio paese ma stai scherzando così avrebbe dovuto rispondere una persona integra e un politico che rappresenta veramente il potere nel proprio paese però siccome noi siamo gestiti dai zerbini la signora Meloni non ha detto niente nessuno si è pronunciato su questa situazione anzi i giornali italiani obbedientemente in modo veramente da perfetti sudditi di regimi anglosassoni hanno diffuso questa notizia hanno diffuso ecco tra poco appariranno le liste dei putiniani d'Italia creeremo problemi con i visti con i passaporti perché l'Ucraina lo chiede perché Zelensky ha detto di farlo quindi lo faremo e quindi adesso immaginate dove sarà dove andrà la situazione con persone che esprimono la propria opinione in Italia cosa faranno verranno a restarci nelle case verranno a arrestare i nostri beni bloccare conti bancari arrestare gli immobili arresteranno i nostri parenti picchieranno le nostre madri cosa farà adesso l'Italia mi domando quanto in basso ancora scenderà questo cari amici il senso di ciò che sta accadendo il senso reale noi stiamo andando verso sempre più stretta collaborazione con un regime nazista e se prima si parlava di un senso comune con gli europei bisogna sostenere l'Ucraina perché 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 adesso non è più adesso non c'è più senso comune adesso siamo sudditi chiaramente e dobbiamo fare quello che questo pagliaccio tossicomene ci dice di fare e questo purtroppo per l'ennesima volta dimostra che noi siamo qualsiasi altra cosa ma assolutamente non una democrazia e chi mi dice siamo una democrazia imperfetta non siamo una democrazia perfetta o non perfetta non ha importanza non siamo una democrazia siamo un paese gestito dalle oligarchi anglosassoni una dittatura anglosassone con le basi militari di un altro paese presente sul nostro territorio che noi non vogliamo ma siamo costretti di mantenerli anche a pagarli questi sanguessughe e nessuno in questo paese ha dignità e orgoglio di alzarsi e dire basta questa situazione mi ha stufato nessun politico nessun rappresentante di sistema del potere lo fa tutti zerbini degli anglosassoni tutti zerbini di questa categoria veramente degradante di persone di potere comunque il senso di ciò che è stato fatto cari amici dice questo macron oggi ha dichiarato che ci sarà una guerra guerra sarà ancora più grande quindi è chiaro che quando macron dice questo è perché lui legge un copione che le è stato dato da leggere lui ha detto che la russia vuole invadere dieci altri dieci paesi è chiaro che questa è una l'ennesima balla per preparare gli occidentali per spaventare gli occidentali con la minaccia russa ma le provocazioni ci saranno ci saranno in altri paesi perché la Nato sa bene a organizzare le provocazioni di recente come avete forse letto io ho condiviso sui miei canali social New York Times ha messo ha parlato del fatto che in realtà la guerra in Ucraina è stata provocata dalle stati unici d'America in realtà stati unici d'America dal 2014 hanno aperto diversi basi segreti della CIA sulla frontiera con la Russia e organizzavano le operazioni di sabotaggio anche sul territorio russo nel 2014 va avanti questa storia e a noi ci raccontavano che Putin una mattina si è svegliato non aveva niente da fare è invaso povera Ucraina cioè vi rendete conto di grandezza di questa di queste bugie di questa disinformazione nella quale noi abbiamo vissuto da anni ci raccontavano delle balle da anni invaso invasore aggrissore e aggredito non dobbiamo pensare a niente solo del fatto che Putin è un pazzo che sta morendo prende delle farmaci che suscitano la rabbia e per questo è invaso d'Ucraina e adesso The New York Times non è proprio la 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 gazzetta del Cremlino e New York Times ha diffuso apertamente le informazioni realtà oggettiva i fatti reali che ci dimostrano come la CIA dal 2014 era impegnata in Ucraina per provocare i russi ad intervenire in una guerra questa è la realtà dei fatti e adesso lo faranno in altri paesi lo faranno tra Polonia e Bielorussia lo faranno i paesi baltici lo farà la Svezia lo farà la Finlandia non si calmeranno finché non faranno esplodere le guerre su lungo tutta questa confine perché attraverso le guerre questa gente diventa ricca e prende il potere attraverso le guerre soffocano le voci del popolo riescono a mettere in una situazione degradante i popoli privare loro dei loro diritti perché la guerra può giustificare qualsiasi cosa quando c'è la guerra si può anche picchiare i ragazzini per strada tanto sono pericolosi e sovversivi che vogliono la pace come vi siete permessi di volere la pace quando invece noi vogliamo la guerra ma state scherzando vi massacriamo di botte questa è la situazione che noi stiamo vivendo quindi Macron ci ha raccontato che nel futuro ci saranno come minimo altri dieci conflitti con la Russia li stanno preparando e lui ha detto la cosa gravissima lui ha detto che la Francia è pronta per spedire i militari francesi se sarà necessario in Ucraina per combattere da parte di Ucraina contro la Russia questa è veramente una cosa gravissima però lui l'ha detto perché questa è stata diciamo l'esito della firma di questi trattati perché hanno firmato questi trattati perché cari amici ufficialmente nessun funzionario della Nato sano di mente non farà mai entrare Ucraina nella Nato è chiaro che Ucraina non entrerà nella Nato perché la Nato non deve spendere tutto questo denaro tutti questi soldi la Nato è un sistema mafioso che sfrutta gli altri paesi per prendere il pizzo il pizzo grosso enorme noi in Italia paghiamo circa 90 milioni al giorno per mantenere quel sistema schifoso terroristico che è presente sul nostro paese schifoso terroristico anglosassone vi ricordo che italiani sul loro territorio ospitano il nemico storico perché se Italia ha mai avuto i nemici state tranquilli che questi sono anglosassoni quelli che oggi si spacciano per grandi difensori dei valori democratici e proprio questa situazione costringerà la Nato di fare un altro diciamo accordo con l'Ucraina l'Ucraina non sarà presa nella Nato ma l'Ucraina farà un accordo particolare con i paesi che fanno parte della Nato quindi l'accordo è stato fatto con la Germania con la Francia e con l'Italia e adesso Francia e Germania in Italia secondo questo accordo quando sarà necessario quando il padrone anglosassoni dirà sì dovete farlo subito in fretta non me ne frega niente cosa è scritto nella vostra costituzione non me ne frega niente cosa pensano i vostri cittadini lo dovete fare perché avete fermato l'accordo con l'Ucraina e quindi saranno costretti di mandare tutte le armi tutti i soldi e tutti i militari cioè soldati vivi in Ucraina a combattere contro i russi quindi cari amici preparatevi perché secondo me è molto realistico che nel prossimo futuro se questo sistema inizierà veramente a funzionare così come lo ha predisposto l'ingraccato anglosassone parecchi militari italiani francesi tedeschi potranno di nuovo trovarsi sul territorio dell'Ucraina come è già accaduto nella seconda guerra mondiale quando facevano parte del Terzo Reich andranno di nuovo a combattere contro i russi come finirà questa storia io penso che chi conosce un po' le parabole che fa di solito geopolitica che fa la storia sa benissimo come finiscono le invasioni ai danni dei russi però qua il problema sapete qual è che questa guerra si fa non per la vittoria questa guerra non si fa per neanche gli interessi conquistati sul campo non per territorio per altro questa è una guerra di due grandi sistemi economici e quindi uno di quei sistemi economici che è il sistema anglosassone semplicemente guadagna con la guerra per cui faranno lo stesso che hanno fatto in altre guerre come hanno fatto in Siria in Iraq come hanno fatto in Afghanistan per vent'anni massacreranno un territorio guadagneranno lì un sacco di soldi indeboleranno i loro alleati in realtà sudditi e poi dopo se ne andranno dicendo ma sì va bene tanto passiamo un'altra guerra andiamo a Taiwan andiamo a rompere le scatole nel pacifico ai cinesi questo è il senso di ciò che sta accadendo è veramente vergognoso che l'Italia sempre più zerbina sempre meno democratica sempre più incline alla collaborazione con questi regimi guidati da vari tossici da gente indegna Italia si è messo in prima fila in questa operazione gestita dagli oligarchi anglosassoni se ci fosse in Italia ancora qualcuno nel potere nel governo tra i militari qualcuno che abbia un minimo di dignità avrebbero sicuramente fatto qualcosa contro questa decisione idiota e anti-italiana che ha fatto il governo italiano facendo questo accordo però noi siamo in mano ai zerbini come ha detto zerbini e delle anglosassoni e questo sarà il destino del nostro paese noi andremo verso il collasso generale collasso che avrà tutto l'occidente perché questa guerra guerra in Ucraina e ciò che succederà dopo è il collasso del sistema occidentale così come lo conosciamo dopo questo collasso l'occidente si trasformerà in qualcos'altro avrà sicuramente un'altra forma e non si parlerà più di una forma democratica di una forma migliore di ciò che c'è già ci sarà di un se si parlerà di un degrado ci sarà sicuramente una forma molto più degradante molto più tirannica molto meno rappresentativa dell'interesse dei cittadini è solo questione di tempo solo questione di tempo amici per approfondire varie notizie che il nostro corrotto mainstream non vuole condividere con voi notizie censurate strumentalizzate oppure taciute io vi invito di abbonarvi al mio canale privato telegram il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video sul mio canale racconto tutto quello che il nostro mainstream non vi vuole raccontare anche per darvi un'idea su quello che veramente succede non solo in guerra in Ucraina ma nel mondo in generale se volete sostenermi qua su YouTube come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale di commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ricordo che in tutte le librerie di dettaglio c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio in questo libro vi racconto le origini della guerra in Ucraina se volete sapere un vero motivo perché è scoppiato questo inferno io vi invito di leggere questo libro e poi fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene che si chiama le origini di leggere la guerra e l'odio